amici benvenuti sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo una storia un po particolare su una macchina altrettanto particolare questa è una mazza rx8 ovviamente la peculiarità la caratteristica fondamentale di questa macchina è il tipo di motore è un motore rotativo vankel con due cilindri appunto che vengono alimentati da due rotori bisogna fare uno schema uno spaccato per vedere come funziona comunque se andate su google e mettete schema tecnico motore vankel vedete esattamente come come funziona quindi non ha pistoni bielle come nei motori tradizionali ma un sistema tutto suo questo sistema vankel è stato addirittura inventato negli anni 30 se non ricordo male quindi non è una cosa recente e la caratteristica fondamentale che riesce a erogare una potenza notevolissima questo motore pensate che parte da una cilindrata di 1300 centimetri cubici e sviluppa 231 cavalli quasi a 9000 giri la coppia massima è 8200 giri quindi per un 1300 arrivare anzitutto a potenze tipo moto perché 9000 giri stiamo parlando di una potenza che forse una moto molto prestazionale riesce ad arrivare e soprattutto a una cavalleria un rapporto di cubatura rispetto alla potenza veramente incredibile allora venendo nello specifico a questa macchina purtroppo questa macchina diciamo non ha dei grossi problemi nel senso che si è stata portata su carotrezzi non si accende per cui non parte in nessun modo e sulla base della nostra esperienza diciamo che allora faccio un passo indietro questo motore ha delle caratteristiche uniche nel suo genere ma un tallone di Achille che è del quale bisogna tenerne assolutamente conto e cioè il fatto di avere i rotori che sono sempre in movimento all'interno del blocco motore dopo un determinato chilometraggio subiscono un'usura per cui le cuspidi che sono appunto se andate a vedervi come vi ho detto prima lo schema il motore capite anche che come sono fatte le i rotori e le cuspidi che creano la compressione nelle singole camere è come se fossero due cilindri in sostanza infatti a due candele sole queste cuspidi tendono a consumarsi sono come le cuspidi di un albero a cam sostanzialmente anche quelle a volte si consumano in questo caso se si consuma iniziano a consumarsi e quando arrivano a consumarsi oltre una certa percentuale il motore non ha più compressione quindi purtroppo questi motori qua per esperienza ce ne sono già capitati in più di 30 anni di lavoro ce ne saranno capitate più di una decina e abbiamo visto che sostanzialmente la moria di questi motori è purtroppo sugli 80 90 mila chilometri cioè arrivata quel chilometraggio il motore o ha uno stand un una percentuale di compressione molto bassa per cui fa fatica ad accendersi nelle prestazioni si riducono la si può ancora usare però in maniera molto parziale oppure come in questo caso quando arriva un certo punto dove la compressione ha perso cioè sotto un livello minimo la parte la vettura non parte neanche più per cui bisogna per forza di cose intervenire sul motore lì ci sono due soluzioni o si revisiona questo motore vancler e pochissimi in italia sono in grado di farlo cioè non ci inventeremo mai a smontare un motore del genere perché bisogna essere estremamente competenti e sapere dove mettere le mani o se no quello che abbiamo fatto in due occasioni abbiamo con tiriamo giù il motore compriamo unicamente il monoblocco che viene ancora fornito presso la rete ufficiale mazza monoblocco nudo diciamo e recuperiamo tutte le periferiche esterne per cui l'alternatore le candele le bobine la pompa benzina tutto quello che è la parte esterna lo si mutua lo si recupera dal motore esistente e a questo punto si ripristina la compressione ottimale in questo caso dato che la macchina è abbastanza vissuta adesso dobbiamo appunto dire al cliente che purtroppo la diagnosi non ha portato alto che a questo risultato deciderà poi il cliente siccome un lavoro del genere ha un costo notevole perché solo il monoblocco da solo costa più di 5 mila dai 5 ai 6 mila euro più tutto il lavoro diciamo che un intervento del genere andiamo vicini più ai 10 mila euro che non che non ai 5 mila quindi un intervento importante se uno tiene a questo tipo di macchina può valer la pena ma è una decisione che poi alla fine dovrà prendere il cliente quindi per il momento abbiamo fatto questo genere di analisi sentiremo il cliente nei prossimi giorni il cliente ci darà una risposta e poi vedremo o se la verrà a portare via su caro atrezzi e a quel punto la metterà come nel mausoleo in giardino o se no deciderà appunto di ripararla e allora lì si comincerà tutta una serie di recuperare tutta una serie di ricambi anche perché per avere il monoblocco di solito ci vuole quasi un mese non hanno monoblocchi di questo genere in concessionarie mazza quindi bisogna ordinarlo il monoblocco arriva direttamente dal giappone e mediamente ci vuole un mese un mese e mezzo comunque vi aggiorneremo anche su quello che sarà la decisione finale per questa mazza ci tenevamo appunto a farvela vedere perché è una macchina molto particolare una storia un po diversa dalle altre io direi che per il momento è tutto vi invitiamo a contattartici telefonicamente come al solito in sede allo 0273 83175 io sono lì tutti i giorni dal lunedì al venerdì consultate il sito www.9milagiri.it soprattutto nella parte archivio elaborazione dove troverete più di 3600 schede vettura cliccate sulla campanella in basso adesso soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima un saluto alla prossima